eccoci qui siamo di nuovo in onda e rinatti per voi lezioni di stile e siamo passati al secondo step con noi giovanni e con pietro tomei personal trainer siamo nei centri fitness and love buongiorno pietro cosa ci prepari per oggi innanzitutto vediamo giovanni già in posizione perché lui si deve preparare anche da un punto di vista dell'aspetto fisico prima abbiamo parlato dei concetti eleganza abbiamo ricordato il bontondito del nostro grande totò adesso stiamo parlando della parte pratica su questo ci aiuta pietro oggi pietro cosa ci insegna come si dovrebbe curare il maschio da un punto di vista dell'aspetto fisico beh diciamo che è diventato molto importante l'aspetto fisico anche al maschile in effetti nel senso che negli anni è aumentata questa esigenza dell'uomo di migliorare il proprio aspetto fisico sono quindi anche negli anni migliorati e cambiati forse un pochino anche gli standard estetici dell'uomo nel senso che si è un po' andato a perdere ciò che era il fisico e la costruzione del fisico estrema per intenderci il bodybuilding e oggi si cerca un po' di più la costruzione a livello armonico del fisico quindi un fisico tonico un fisico asciutto però soprattutto fisico funzionale e un fisico che è utile non solo esteticamente bello ma anche sano e quindi sicuramente l'aspetto del benessere è diventato un aspetto prioritario e fa da padrone in confronto ad esempio a come dicevo al vecchio buon bimbi quindi questa è una notiziona non è più di tendenza avete presente quei quadratini tutto muscolosi tutti gonfiati anche per le femmine non solo per i maschi quindi oggi diciamo che siamo più accessibili no è cambiato il concetto questo ci aiuta per noi che ci occupiamo proprio del mondo del benessere a questo punto vedi del cambiamento per il maschio più che altro certo certo proprio sono cambiati come dicevo i canoni estetici piace sempre la tartanuga per intenderci diciamo che però le misure non sono più estremizzate come magari potevano essere una volta l'uomo ricerca un fisico più naturale ok è un fisico sicuramente meno compatto e questo diciamo che ha portato anche comunque il trend anche proprio dell'allenamento più verso l'allenamento funzionale in confronto all'allenamento diciamo solo con i pesi quindi meno competitività se lo vogliamo più bilanciata la situazione anche se un bilanciamento anche se competitività c'è sempre perché alla fine è una competizione interna per migliorare però diciamo che si è capito che è più importante stare bene avendo un bel fisico che è semplicemente avere un bel fisico magari con pratiche che potevano portare anche a dolori algie, mal di schiena per intenderci e vi dicendo oltre anche proprio a delle difficoltà motorie che si avevano ad esempio nel mondo del bodybuilding dove come dicevo questi volumi muscolari sono estremizzati oltre diciamo la naturalità umana. Quindi molto più sano come esercizio, come stile di vita ma anche personalizzato a questo punto. Sì sì, infatti l'altro trend molto importante è proprio la personalizzazione dell'allenamento perché si è capito che la velocità e la qualità dell'allenamento lo si riesce a raggiungere soprattutto attraverso la personalizzazione, cioè ogni persona deve avere un proprio allenamento personalizzato perché ogni persona è un individuo a sé, quindi ha delle esigenze, dei bisogni, delle problematiche e un allenamento personalizzato sicuramente va ad abbracciare tutte queste problematiche e a rendere l'allenamento il più possibile funzionale. Ottimo, detto questo prendiamo una piccola pausa ma restate con noi. Sì sì, riposa. A breve, ciao. Ciao, grazie.